una vittoria a testa un incontro importantissimo adesso un incontro alla fine una vittoria a testa vediamo subito che è una che parte però è poi in Ciglietti che impone lì da Porto andando Bianca a partire vediamo questa intonuzione prima richiamo tanto vediamo che la situazione è di una vittoria a testa tra la rifiata azzurra e il centro sportivo carabinieri a Roma ma ancora è una donna di entro ma ancora il bordo ha un'isola e non c'è un'altra cosa si può fare ma l'intensore non c'è lui e cosa si sta ma non c'è lui e cosa si sta perché no non c'è lui e cosa si sta ok il bordo da Ruggendo nell'edizione di 2009 già avevano conquistato le ragazze a sparare. Allora, di nuovo allontiamo Charlie, come si dice oggi che abbiamo visto con questa battaglia di bronzo. 3,24 al termine, sempre vai là, solo l'indiamo che è una risa sui piedi. C'è una certa incisione da parte della Perno Vardegna, della scuola di Puglia. Vediamo questa mobilità, vediamo che Perno Vardegna cerca questo avversamento, c'è un'interfusione dal Puglia, nel lato, c'è un'interfusione. Sono scelte sotto i tuoi minuti. E' una battaglia di lasting a n moreno, a devo dare a scuola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.